Ciao a tutti. Oggi parleremo di terremoti, ed in particolare di quelli che sono avvenuti nel nostro appennino a partire dal 1200 fino a tutto il 1700. Cercherò in pochi minuti di raccontarvi ciò che è accaduto in 600 anni, raggruppando in alcuni casi gli episodi. Per ciascuno di essi indicherò l'epicentro e la magnitudo, stimati in base all'estensione dell'area dei danneggiamenti riferiti da cataloghi sismici e fonti storiche. Aggiungerò inoltre, per ognuno, alcuni particolari che ho ritenuto significativi. Buon viaggio! Il 30 aprile 1279 avvenne un grande terremoto, la cui area di danneggiamenti fu molto estesa. La magnitudo stimata di circa 6.3 Richter ebbe un epicentro ipotizzato fra i centri abitati di Camerino e Nocera Umbra, i più colpiti dalla scossa. Alcuni scritti medievali riferiscono che durante l'evento si staccò una grande frana da un versante, presso una località forse individuabile con l'attuale castello di Serravalle di Chienti. L'accumulo di frana raggiunse il fondo valle ed il centro abitato, seppellendolo istantaneamente, provocando la morte dei suoi 500 abitanti. La frana, inoltre, sbarrò il corso del fiume Chienti, generando così un lago effimero che sommesse il territorio a monte, provocando così ulteriori devastazioni. Il 4 dicembre 1328 un potente terremoto causò distruzioni gravissime e morti a Norcia e in vari centri abitati della Valnerina. La scossa ebbe una magnitudo stimata di 6.2 Richter e fu preceduta da scosse meno intense che iniziarono nel mese di novembre. Il terremoto provocò la quasi totale distruzione delle città di Norcia e Cascia. Crollarono molti edifici privati e pubblici, le chiese e parte delle mura cittadine. Nelle cronache dell'epoca ha riportato che a Preci morirono nel sonno tutti gli abitanti per il crollo delle loro abitazioni. L'evento successivo riportato dai documenti storici avvenne il 3 febbraio 1477 nel territorio di Forigno, durante un inverno particolarmente freddo e dopo un'epidemia di peste che aveva colpito la città. Le scosse iniziarono i primi di gennaio. Una forte scossa si verificò il 30 gennaio. Essa non provocò danni, creò solo molto spavento. Ma la scossa più violenta, con magnitudo di 4.7, arrivò un paio di giorni dopo, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Tutti gli edifici della città vennero gravemente danneggiati o crollarono. I cittadini dopo la scossa si dovettero riparare in alloggi di fortuna per proteggersi dal freddo intenso e dalle nevicate che si verificarono durante quell'inverno. Durante il 1500 si sono verificati solo due eventi significativi, il primo dei quali è avvenuto il 9 settembre 1511, con epicentro presumibilmente tra Camerino e Sanseverino Marche. Non si hanno molte informazioni su questo terremoto, che probabilmente ebbe una magnitudine molto elevata, di circa 5.5, considerata la limitata estensione dei risentimenti. Le fonti storiche riferiscono che a Camerino il sisma danneggiò due antichi e importanti edifici del centro, non più esistenti. Dopo questo evento tascossero circa 90 anni di tregua sismica, che fu interrotta il 5 novembre 1599 in Balnerina. L'evento fu preceduto da scosse più leggere, che furono avvertite a Cascia all'inizio del mese di ottobre. Poi il 4 novembre se ne verificò un'altra, che danneggiò parecchie case. Ma la scossa più devastante, di magnitudo 5.9, invece si verificò nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Essa fece crollare una quarantina di case e danneggiò gravemente molti altri edifici. Il sisma fece danni e morti in tutto il circondario. In totale i morti furono 48, di cui 8 solo a Cascia. Le popolazione fu lasciate a se stessa al freddo e sotto ripari di fortuna. Dopo una pausa di circa 100 anni, nel 1703, si verificò un grande evento che può essere paragonato per estensione durata al sisma del 2016. In realtà i telemoti furono tre e furono preceduti e seguiti da scosse minori, che interessarono un vasto territorio situato tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Lo sciamme sismico iniziò nei primi mesi del 1702, nella zona del Montevettore, con scosse di lieve intensità. Successivamente, un evento significativo si verificò il 18 ottobre del 1702, nei pressi di Norcia. Esso fu avvertito in tutto il centro Italia, ma non provocò grossi danni. Un'altra scossa di intensità paragonabile alla precedente avvenne poi il 14 novembre, sempre dello stesso anno, questa volta con epicentro a Spello. La prima forte scossa con magnitudo di 6.7, invece, si verificò il 14 gennaio del 1703, con epicentro fra gli abitati di Norcia, Cascia e Leonessa. Due giorni dopo, il 16 gennaio, avvenne una seconda scossa. Questa volta l'epicentro si spostò più a sud, verso l'Aquila, dove vi furono danni ad abitazioni e chiese. Infine, il 2 febbraio del 1703, poco prima di mezzogiorno, si verificò una terza forte scossa, con epicentro tra Antrodoco e l'Aquila, paragonabile come intensità alla prima del 14 gennaio. A quell'ora, molte persone si trovavano nelle chiese per le celebrazioni liturgiche della Candelora. Alcune centinaia di fedeli si trovavano nella Basilica di San Domenico, all'Aquila, dove, a causa della forte scossa, cedette il tetto della chiesa, seppellendo circa 800 persone che persero la vita. Dopo i grandi terremoti del 1703, il nostro appennino continuò ad essere interessato da altri sismi, che accadevano con maggiore frequenza rispetto a prima. E' come se un equilibrio si fosse spezzato, causando il verificarsi di tutta una serie di eventi che andavano devastando qua e là il nostro territorio. Il primo di questi eventi ebbe come epicentro sempre l'area di Norcia e Cascia, e si verificò il 27 giugno del 1719. La scossa di magnitudo 5.6 produsse lesione agli edifici nuovi costruiti dopo i terremoti del 1703. A Norcia si ebbero alcuni morti, mentre nella vicina Visso non si risentirono gli effetti di questo terremoto. Undici anni dopo, il 12 maggio del 1730, avvenne un altro terremoto, di magnitudo 6.0, sempre nella stessa zona, ma con maggiori danni questa volta più nel territorio di Norcia, dove si verificarono crolli e devastazioni. A metà del Settecento, gli eventi sismici si spostarono più a nord, dove se ne verificarono tre. Il primo, molto violento, con magnitudo stimata di 6.2, avvenne il 24 aprile del 1741 e colpì maggiormente il territorio di Fabriano e alcune località della media valle del fiume Sino. A distanza di sei anni, il 17 aprile del 1747, si verificò un'altra scossa, di magnitudo 5.7, con epicentro tra le località di Guadotadino e Nocera Umbra, poco a sud-ovest del precedente sisma del 1741. La scossa del 17 aprile fu la maggiore di uno sciame sismico iniziato il 26 gennaio e terminato il 22 dicembre 1747. Questo evento causò crolli e danni abbastanza gravi nel territorio di Nocera Umbra, Guadotadino e nel Fabrianese. La castiva sorte volle che un nuovo forte terremoto, il 27 luglio del 1751, si verificasse nel medesimo territorio, quattro anni dopo la scossa del 1747. Il forte evento, di magnitudo 6.2, fu preceduto da uno sciame che iniziò il mese di marzo e le scosse, dopo quella principale di luglio, si susseguirono fino alla metà del 1752. I danni maggiori si verificarono nel territorio di Guadotadino e di Nocera Umbra. Dopo i tre terremoti di metà 700, anche l'ultima parte di questo secolo fu caratterizzata da tre eventi. Il primo iniziò con uno sciame che interessò l'Alta Valle del Chienti, Tramuccia e Serravalle di Chienti, nel periodo tra il 5 febbraio e il 2 agosto del 1785. In particolare, la scossa più forte si verificò il 3 maggio, con magnitudo di 5.3. Gli eventi sismici produssero danni agli edifici e difficoltà economiche alla popolazione, ma per fortuna non causarono vittime. Il secondo evento, di magnitudo 5.5, avvenne l'11 ottobre 1791, con epicentro probabilmente ubicato tra i centri abitati di Foligno, Colfiorito e Sellano. Lo sciame sismico ebbe una lunga durata e le scosse terminarono nei primi mesi del 1793. Il terzo terremoto, infine, si verificò il 28 luglio del 1799. Ebbe una magnitudo stimata di 5.9 e epicentro probabilmente localizzato qualche chilometro nord-est della città di Camerino. Il terremoto del 1799 fu, come intensità, il secondo più violento terremoto che colpì la città, dopo quello del 1279. La scossa più forte fu preceduta da due scosse premonitrici. La prima si verificò alle 18 e non provocò danni, ma venne avvertita in una stessa area tra Marche e Umbria. La seconda, più intensa della prima, avvenne alle 23 e provocò alcuni danni agli edifici. Ma la scossa più forte avvenne alle 3 di notte e causò molti crolli. I morti furono 44 e molti feriti. Scosse minori furono avvertite in seguito per qualche mese. Giunti al termine di questo viaggio, cerchiamo di trarre qualche conclusione. Abbiamo visto che i terremoti che si sono verificati nel nostro appennino dal Medioevo in alcuni periodi si sono concentrati nel tempo, come ad esempio quelli accaduti dopo il 1703. Abbiamo visto poi che spesso, anche se non sempre, i grandi eventi nel nostro territorio sono stati preceduti da sciami o scosse minori. Ma oggi, come allora, non è possibile prevedere terremoti e quindi l'unico modo che abbiamo per difenderci da essi è costruire gli edifici in modo sicuro e soprattutto non dimenticare di farlo trascorso qualche anno dall'ultimo evento. Ho cercato in pochi minuti di raccontarvi la storia sismica di più di mezzo millennio del nostro territorio. Per raccontarvi tutto ci sarebbe voluto molto più tempo, ma se volete saperne di più potete trovare altre notizie su questo libro appena uscito in libreria che si intitola È passato il terremoto. Bene, è ora giunto il momento di salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima avventura geologica. A presto! Grazie a tutti!